come smettere di soffrire quando si viene lasciati intanto quando si viene lasciati si impara una lezione potremmo dire che l'essere abbandonati è il nostro maestro sul fatto che gli eventi della vita sono in perenne continua costante trasformazione e noi soffriamo di fatto perché anche se a livello logico e razionale riusciamo a capire questo è inevitabile che non che lo capiamo perché la nostra vita è costantemente in trasformazione dalla nascita alla morte e la morte è l'ultimo diciamo atto trasformativo della vita e quindi abbiamo capito questo a livello logico non dovremmo lamentarci quando le cose cambiano perché è la norma noi siamo in un flusso vitale la vita funziona in questo modo il tempo è proprio la generazione della trasformazione se non ci fosse trasformazione non ci sarebbe tempo e quindi potremmo dire che tutti noi abbiamo capito questo a livello concettuale pochi lo abbiamo capito a livello profondo infatti molte persone soffrono quando vengono abbandonati dobbiamo quindi utilizzare l'energia dell'abbandono in modo positivo per da un lato entrare sempre di più dentro noi stessi in modo tale che riusciamo a capire profondamente l'impermanenza della vita e questo ci servirà in tutto anche ad affrontare meglio la morte e poi un'altra cosa molto importante questa energia che sentiamo a ribollire dentro possiamo tenerla di dobbiamo canalizzarla su qualcosa di utile dobbiamo focalizzarla su qualcosa di utile abbiamo a disposizione un arsenale e quindi diamoci un obiettivo che può essere di natura sentimentale lavorativa di qualunque genere abbiamo tutto il carburante che ci permetterà di raggiungerlo quindi due vantaggi diciamo così dell'essere abbandonati sono che l'abbandono è un maestro di impermanenza due che ci procura energia che possa impariamo a canalizzare le utilizzate nel modo giusto ci darà enormi risorse enorme carburante per raggiungere degli obiettivi che ci dobbiamo prefissare nella nostra vita perché avere una meta un faro guida illuminante ed è molto importante però bisogna anche avere il carburante per raggiungerlo questa energia se usata nel modo positivo è un carburante eccezionale e facendo queste cose la sofferenza sparisce non non appare più perché la sofferenza nasce da un confronto tra il passato e il presente cioè noi andiamo a confrontare un'immagine del passato con immagini del presente ma l'immagine del passato dobbiamo sgretolarla perché tanto è un qualcosa che non stiamo vivendo in questo momento e dobbiamo confrontare l'immagine nel presente con le nostre sensazioni quindi cercare di adeguare abbiamo possibilità in questo modo di adeguare l'immagine nel presente a ciò che vogliamo veramente e stare bene con noi stessi e la cosa che dobbiamo desiderare di più in senso assoluto per questo video è tutto vi do appuntamento al prossimo ciao ciao